Ciao a tutti amici ben ritrovati. Oggi il mio fratellone Carlo Vitiello ha condiviso con me un testo bellissimo che vorrei condividere con voi. Si tratta di una lettera scritta da uno dei miei autori preferiti, Herman S. Amare è la capacità di sentire. Buon ascolto. Quanto più invecchiavo, quanto più insipide mi parevano le piccole soddisfazioni che la vita mi dava, tanto più chiaramente comprendevo dove andasse cercata la fonte delle gioie della vita. Imparai che essere amati non è niente, mentre amare è tutto. E sempre più mi pareve di capire ciò che dà valore e piacere alla nostra esistenza, non è altro che la nostra capacità di sentire. Ovunque scorgessi sulla terra qualcosa che si potesse chiamare felicità, consisteva di sensazioni. Il denaro non era niente, il potere non era niente. Si vedevano molti che avevano sia l'uno che l'altro ed erano infelici. La bellezza non era niente. Si vedevano uomini belli e donne belle che erano infelici nonostante la loro bellezza. Anche la salute non aveva un gran peso. Ognuno aveva la salute che si sentiva. C'erano malati pieni di voglia di vivere che fiorivano fino a poco prima della fine e c'erano sani che avvizzivano angosciati per la paura della sofferenza. Ma la felicità era ovunque una persona avesse forti sentimenti e vivesse per loro, non li scacciasse, non facesse loro violenza, ma li coltivasse e ne tresse godimento. La bellezza non appagava chi la possedeva, ma chi sapeva amarla e adorarla. C'erano moltissimi sentimenti all'apparenza, ma in fondo erano una cosa sola. Si può dare al sentimento il nome di volontà o qualsiasi altro. Io lo chiamo amore. La felicità è amore, nient'altro. Felice è chissà amare. Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa e percepisca la propria vita. Ma amare, desiderare, non è la stessa cosa. L'amore è desiderio fattosi saggio. L'amore non vuole avere, vuole soltanto amare. Hermann S. Grazie Carlo per avermi passato questo testo meraviglioso e grazie a voi che avete ascoltato fino alla fine. Un grande abbraccio e un grazie di cuore a Hermann S. per aver scritto testi meravigliosi e per avermi in qualche modo cambiato la vita. Ci sentiamo presto con una nuova bellissima lettura. Ciao da Rosanna